Nella lezione precedente abbiamo visto come è possibile dipingere sia in modalità tridimensionale sia in modalità bidimensionale utilizzando delle texture ripetute, quindi dei materiali che possono essere ripetuti con una mappatura e con un tiling, quindi possono essere scalati e manipolati anche con lo strumento manipolatore. E abbiamo visto anche come applicare delle grafiche singole, quindi per esempio un logo o dei testi per fare packaging design, branding design, apparel design, in questo caso fashion design e via dicendo. Quindi come possiamo fondamentalmente fare un packaging, ovvero l'applicazione di grafiche appunto sia direttamente nel modello 3D o anche utilizzando delle mappe UV e quindi quanto è importante scegliere degli asset come quelli che abbiamo appunto selezionato che abbiano una corretta mappatura UV o UV. E quindi sostanzialmente un buon modello, in questo caso abbiamo preso appunto un modello da TurboSquid, questo modello di pantaloni che è un modello gratuito che potete scaricare, vedete sono stati utilizzati vari programmi per crearlo, probabilmente anche ZBrush, quindi programmi di scultura, non solo di pittura. E quindi attenzione appunto al modello che selezioniamo. Abbiamo visto anche che possiamo utilizzare altri software per la manipolazione dell'immagine come per esempio Gimp che è un software open source o anche dei siti online che ci permettono di lavorare in modo simile a Photoshop come per esempio Pixel e poi trovate i vari corsi all'interno del canale, incluso anche Photoshop, altri corsi e guide per quanto riguarda diciamo la grafica 2D più tradizionale. Tornando a Substance, quindi abbiamo visto anche tutti gli strumenti e i parametri che troviamo all'interno del livello, del pennello e del riempimento, ci siamo concentrati principalmente su questi due. Abbiamo anche visto come applicare dei materiali presentati e anche come creare delle cartelle per inserire all'interno i vari livelli che andiamo a creare. E abbiamo visto appunto uno tra gli ultimi effetti, l'effetto stencil, quindi come possiamo applicare una grafica sia di nuovo in modalità unica singola sia in modalità ripetuta, quindi con un tiling, una ripetizione. Abbiamo anche visto che creando delle texture personalizzate potremmo anche incorrere in un problema, ovvero il problema delle cuciture. Questo problema possiamo risolverlo andando proprio ad utilizzare un altro strumento che troviamo qui nella barra degli strumenti a sinistra, che è lo strumento clone. Lo strumento clone in realtà è uno strumento che proviene appunto da programmi come Photoshop, lo troviamo anche in Gimp, in Pixlr, serve appunto per trasportare dei pixel da una parte all'altra. E spesso appunto viene utilizzato per mascherare, quindi per nascondere, oppure anche a volte per duplicare gli elementi. Quindi in questo caso di questa texture, come vedete, diciamo sbagliata, ho un livello di riempimento, dove ho creato questo materiale molto semplice. Ora, se clicco sulla prima icona, posso aggiungere altre tipologie di livelli all'interno di questo livello, quindi chiamiamoli dei sottolivelli. Poi vedremo anche che possiamo aggiungere delle maschere e completeremo quindi gli strumenti che troviamo qui nel pannello dei livelli. Quindi quando io clicco su questo pulsantino posso aggiungere varie tipologie di sottolivelli, chiamiamoli così. Per esempio, andiamo ad aggiungere un generatore. Ok, vedete che in questo caso il generatore è vuoto e quindi quello che potrei fare è andare a inserire un nuovo generatore. Quindi clicco qui in basso, clicco su un generatore e abbiamo visto qualcosa di simile già precedentemente. Fondamentalmente il generatore che cosa fa? Va a applicare, in base sempre alla mappatura UV, degli effetti. Vedete, per esempio, proviamo con l'auto stitch. In questo caso vedete che va a posizionare dove lui crede che debbano essere posizionate le cuciture, fondamentalmente nelle varie isole della mappa UV, questa cucitura proprio in modo, se vogliamo, automatizzato. E poi posso anche sistemarla, come vedete, con i vari parametri. E quindi si tratta proprio di un'operazione di, diciamo, creazione di elementi procedurali, come se stessimo in questo caso in qualche modo scolpendo. Ora, il colore è stato, come vedete, cambiato automaticamente perché stiamo utilizzando una maschera. Quando vediamo questo simbolino, significa che noi stiamo utilizzando il livello che abbiamo creato solamente all'interno dell'area definita dalle cuciture. Quindi, se seleziono appunto le cuciture, qui potrei anche, diciamo, togliere qua nel generatore alcuni di questi effetti. Vedete, per esempio, posso lasciare magari solamente l'effetto colore. E poi potrei anche utilizzarle anche come emissive, quindi in questo caso ne creiamo un effetto luminoso solo in quel punto. Poi vedremo le maschere più avanti, però intanto abbiamo visto che possiamo applicare anche questi effetti. e posso poi ovviamente utilizzare un metodo di fusione per mantenere i due livelli, entrambi visibili. Se vogliamo possiamo anche prendere i livelli e andarli, per esempio qui abbiamo questo livello 4. Possiamo anche con il destro inserire delle maschere anche da qui, aggiungere, disattivare, invertire le maschere. Poi, ripeto, parleremo più avanti delle maschere. Oppure possiamo anche copiare un livello, incollarlo o duplicarlo. E quindi in questo caso, vedete che ho, avendo due livelli, posso intensificare quell'effetto oppure utilizzare magari un altro metodo di fusione per testare, diciamo, altri possibili effetti che potrebbero essere generati con la combinazione di questi diversi livelli. Posso rimuovere gli strati, raggruppare i livelli anche da qui o anche assegnare un colore particolare per evidenziarli. Copiare il contenuto e modificare anche da qui, vedete, i metodi di fusione. E anche da qua posso andare ad aggiungere dei sottolivelli. Se clicco sul destro su un sottolivello, vedete, posso anche copiare e incollare effetti in un altro livello. Ora abbiamo visto come aggiungere un generatore. Come vedete ce ne sono molti altri, quindi qui per esempio è un generatore di sporco. Posso anche selezionarlo una volta applicato e tagliarlo o duplicarlo per renderlo ancora più forte o rimuoverlo oppure cambiare appunto di nuovo le opzioni di fusione. Se lo taglio posso andare magari ad aggiungere un materiale preimpostato e poi, ok, vedete, qui già abbiamo un livello, abbiamo anche delle correzioni e altri anche livelli che possiamo spegnere e accendere. Anche già un livello dirt, come vedete. Io posso applicarlo ulteriormente. Ecco qua, vedete, questo è il livello base. Potrei incollare l'effetto a quest'altro. E quindi, come vedete, poi, diciamo, gli effetti possono moltiplicarsi e di nuovo posso utilizzare un blending mode piuttosto che diminuire direttamente l'opacità. Voglio ricreare un nuovo livello di riempimento e tornare al discorso delle cuciture. Quindi utilizzare quella che abbiamo chiamato bad texture precedentemente. Quindi, come vedete, siamo qui nel livello di riempimento. Ora, per poter utilizzare il timbro clone anche qui all'interno di Substance che è questo strumento che vediamo qui che al momento è disattivato dobbiamo andare a creare un sottolivello. In questo caso è un sottolivello Aggiungi colore. Quindi, come vedete, adesso posso dipingere su questo livello quindi con il pennello normale e già in questo caso potrei un po' mascherare le cuciture. Ma per copiare gli stessi pixel e portarli in questo punto vado ad utilizzare appunto il timbro clone. Per utilizzarlo sono su Dipingi ma devo spostare come metodo di fusione a Pass True. E quindi, premo V della tastiera tengo premuto V e clicco per campionare un punto e poi comincio a spennellare, vedete proprio nei punti dove ci sono le cuciture. Quindi, abbiamo visto questa operazione direttamente in GIMP che magari potrebbe anche essere più semplice in alcuni casi ma qui la facciamo, come vedete, anche direttamente in Substance. E quindi devo andare a effettuare questa operazione laddove ci sono delle cuciture da nascondere. Se utilizzo un alfa abbastanza morbido quindi non con una hardness elevata quindi una durezza elevata degli bordi riuscirò a camuffare ancora meglio le varie cuciture. Così come posso nascondere, eliminare dei difetti posso anche duplicare invece delle cose che magari ho intenzione di duplicare come per esempio questo logo. In questo caso vado direttamente a creare un nuovo livello pittura e di nuovo seleziono Pass True premo con la V sul punto che voglio campionare e poi vado a duplicare appunto quella parte. Attenzione perché la parte con...